Eccoci, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti a questa live speciale dedicata al primo storico volo di turisti nello spazio con la navicella Spaceship 2 VSS Unity per la Virgin Galactic. Immaginate di lanciare una vostra compagnia per andare allo spazio e dopo aver investito un miliardo di sterline in un arco di 17 anni, eccovi qua, ce l'avete fatta. Mancano 15 secondi, 10 secondi, vi lascio l'audio anche se non si sentirà niente se non il countdown. Eccola! Eccola, oh che bella, i motori accesi e ha funzionato, il motore si è acceso con successo e si parte, siamo già alla velocità del suono. Eeeh, siamo a 47.000 piedi, sopra di me vedete la velocità, a 1,4 Mach, 50.000 piedi. Bah che bello! Siamo diretti verso lo spazio e l'avvio Session Unity si è già girata verso l'alto. Siamo a 2 volte la velocità del suono, tutto sembra a posto e siamo a, tra poco a quasi 100.000 piedi. Siamo tra poco, allora, tra poco dovrebbero essere già, ecco lì, arrivati a Mach 3, normalmente si arriva a Mach 3.1 e vediamo se continua. Sì, allora è vero, non andava verso la 3,5 e a Mach 3. Dovrebbero arrivare a 27.900 piedi che sono circa poco più di 85 chilometri. Quindi, al momento, spenti i motori dovrebbero essere già in microgravità, in assenza di peso. Ok, perfetto, hanno confermato che hanno gli RCS. Ok, ci sono gli RCS per, ha senso, in realtà, perché sono abbastanza in alto, quindi non credo all'atmosfera, faccio molto. Quindi dovrebbero arrivare fino a 85 chilometri al momento, quindi ufficialmente nello spazio per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ci sono due piloti a bordo e ora dovremmo sentire la voce di Richard Branson che dovrebbe dire due parole dallo spazio a bordo della Uniti. Vediamo. Ehi, grazie al ride di Parliamo di Videogiochi siete appena arrivati in tempo, quella che vedete è la navicella della Virgin Galactic, la Space 2, appena arrivata nello spazio. Allora, dovrebbe essere a 86.000, quasi 86 chilometri, a 85.950 chilometri circa. Perché l'apogeo, appunto, più alto dell'orbita dovrebbe essere, dell'orbita, del volo suborbitale dovrebbe essere a circa 282.000 chilometri, due chilometri, ancora, piedi, che dovrebbe essere circa 86 chilometri, circa 85.9 chilometri. Oh, ecco un po' di riprese di loro che galleggiano. No, perché scattava, peccato, che bello vederli galleggiare. E noi li vediamo così da sotto, ma loro da lì, vi ricordo, che vedono il cielo completamente nero. Noi vediamo il cielo blu perché guardiamo da sotto, quindi abbiamo la cossiera in mezzo. Vedono il cielo completamente nero e con tutto intorno la curvatura della terra in nostra lanza. E a questo punto si stanno già rimettendo sulle sedie e si stanno preparando per legarsi, per ritornare sulla... la terra, quindi la navicella ora si prepara al rientro e stanno ritornando verso la casa. Vedete che piano piano ora, mentre stanno riscendendo, si arriva di nuovo a velocità alte, siamo a 2,6 volte la velocità del suono. E l'attitudine scende velocemente. Siamo a 130 piedi, 130.000 piedi. Eccoli, oh che bella questa ripresa, si vede in lontananza, qui notate la curvatura della terra. E tutto sta procedendo alla grande, sta funzionando bene. Siamo a 0,9 Mach e... Quindi ora sono di nuovo sotto la velocità del suono e a circa 70.000 piedi. 70.000 piedi sono... Sto scendendo velocemente. A 60.000 piedi ora sono intorno a 20 chilometri. 18 chilometri si dovrebbero essere. E... Eccolo qua, sono a 18 chilometri di altezza ora. A 50.000 chilometri sono a 15 chilometri di altezza. 50.000 piedi, 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 piedi. Tra bassi dovrebbero chiedere aiuto alla Dellon per delle riprese migliori dello spazio. Non sono facili per nessuno, neanche nella SpaceX. Anche la SpaceX spesso ha camere che non funzionano, saltano, contatti, eccetera. Questa è la coda, dovrebbe essere la coda di Unity. E le ali dietro dovrebbero piegarsi ora per iniziare a planare verso il rientro. Vai, ok, perfetto. Le ali sono state piegate. Oh, eccole qua. Come previste, al momento sono a circa 12 chilometri. Quindi, al momento, la navicera è un glider. Per cui, in questo momento, stanno planando verso la Terra. Per cui, stanno piano piano rientrando, planando verso l'aeroporto. E l'unico sistema di controllo che hanno è appunto con il naso della navicella, piegandolo più in avanti, più indietro, per riuscire a planare piano piano verso l'aeroporto. Quindi, siamo riusciti comunque a vedere il storico volo della Virgin Galactic. Eccoli qua. Oh, che bello vederli così felici. Vediamo se riescono ad avere una connessione. Eccoli. E nel frattempo sono a 33.000 piedi, che sono circa 10 chilometri. Quindi, a questo punto, sono già ad altitudini di aerei di linea. Pasquale D'Ambrosio dice Ciao Adriano, ma come mai c'è una grandissima differenza di prezzo pagato dai viaggiatori della Virgin? 250.000 dollari rispetto a quelle della Blue Origin, più di 20 milioni. A parità di tempo, che presumo sia in entrambi pari a 10 minuti. Almeno così leggevo. È simile la durata e la Blue Origin va leggermente più in alto. La grossa differenza, come dicevo, per la Blue Origin non è il prezzo quello che abbiamo sentito, quello dei 20 milioni. Quello è stato dato all'asta. Per cui, quella è stata un'asta vinta per poter viaggiare in quel primo volo con Jeff Bezos accanto. Per cui, i prezzi erano al rialzo, perché era semplicemente una corsa a chi tra tutti avrebbe partecipato. Ma non sarà quello nominale, insomma, quello che ci sarà solitamente. Grazie. 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 Oh, che bello vedere che si pregge. C'è un po' di lag, però comunque si è sentito Branson che diceva che era molto lusingato, molto felice, si è congratulato con tutti quelli che hanno creato questa impresa e che sono riusciti a renderla perfetta per un volo storico di questo tipo. E ora si preparano anche a fissaggiare per il resto della giornata. Ora stanno rientrando verso l'aeroporto. Sono a 22.000 piedi, quindi non manca molto. Ormai sono a, quindi, 6,7 chilometri. 6 chilometri, quindi non è molto. E tra l'altro, molto interessante è che ora i piloti si stanno preparando a rientrare. Una delle cose che cambia a livello fisico è che quando parti pesi di più. Per cui il modo in cui si comporta la navicella è diverso perché hai tutto il carburante che però hai consumato. Per cui ora la navicella ha una massa diversa, pesa di meno rispetto a prima con il carburante e quindi si comporta leggermente diverso come esperienza di guida per i piloti e quindi stanno piano piano guidando la navicella per farla rientrare piano a casa. Mattia chiede a quanti G sono arrivati e il massimo è stato 3,1. Durante l'ascesa. Rosian dice che non siano arrivati nel vero spazio ma hanno fatto la storia, possono dire di essere arrivati fino a quell'altezza. Non esiste vero spazio, è una cosa che abbiamo inventato noi. Noi abbiamo deciso nel mondo col sistema metrico che per noi era 100 chilometri mentre gli Stati Uniti hanno deciso all'epoca 50 miglia. Sempre cifre tonde sono, giusto per approssimare. Quindi da questo punto di vista entrambe vanno bene. Cioè la differenza c'è, se vuoi essere pignolo, ma la differenza c'è anche tra 100 e 400 chilometri dove si trova la stazione spaziale internazionale. Per cui grosso modo alla fine non c'è, per questo tipo di voli, per voli turistici, per quella che è l'esperienza di una persona che fa un volo per solo il gusto di vedere la curvatura terrestre e la terra dall'alto, 85 chilometri come oggi. Oppure 100 che è solo 15 chilometri più in alto non fa così tanta differenza. Più o meno siamo lì. Poi se vuoi essere pignolo dal punto di vista della legge internazionale, sì, hai assolutamente ragione. Non erano nel vero spazio, qualsiasi cosa voglia dire. Ma per aspetti pratici, sì. Io sono dell'idea che più o meno, essendo tutte quelle che hai inventato, più o meno quello che conta è il contesto. Quello che devi fare. Per cui in questo contesto turistico, 85 chilometri ci sta. Non è così lontano dallo spazio per poter essere considerato un'esperienza di essere andato allo spazio. Ora, se fossero come quelli che lanciano paloni aerostatici fino a 30 chilometri e poi dicono era il salame nello spazio, a 30 chilometri quello no. Quello è meno della metà della distanza per lo spazio, se è abbondantemente nell'atmosfera. Ma in questo caso 85 chilometri è abbondantemente fuori dal grosso dell'atmosfera, vedi la curvatura terrestre, vedi il cielo nero, vedi... Cioè l'esperienza è come essere abbondantemente nello spazio così come a 100 chilometri. Poi tanto comunque sarà sempre una cosa soggettiva, per cui alcune persone lo vivranno come troppo poco, altri vorranno arrivare in orbita, altri diranno che non è vero lo spazio finché non sei arrivato in orbita intorno alla Terra. Per cui... Dusky95 dice Sono super emozionato, ci pensate che da oggi è solo questione di tempo, ma prima o poi si potrà andare nello spazio, basta risparmiare. Sì, esatto, i biglietti, cioè puoi già andare a comprare i biglietti. Non so se in realtà sono vendita ora o se hanno temporaneamente chiuso, perché in base alla disponibilità a volte sono aperte, a volte sono chiuse il compravendite, però... Sì, sono... Cioè è possibile comprare un biglietto per andare nello spazio. Il biglietto per la Virgin Galactic costava intorno a 250.000 euro. Eccoci, le ruote sono scese e... siamo a circa due chilometri al momento. Siamo a circa un chilometro e mezzo di altitudine. E manca pochissimo. Ed eccoci, pochi metri e dovrebbero essere... dovrebbero essere pronti. Vi ricordo quell'altitudine rispetto al livello del mare, ma comunque insomma sono... sono in montagna, sono in New Mexico. Ecco, quindi... Loro sono... Qui dove sono, nello spazio porto, è a 1,4 chilometri sul livello del mare. Quindi sono come in cima a una montagna da 1.400 metri. E... Touchdown! Sono scesi a casa sani e salvi. Vediamo se riescono anche a frenare senza problemi, ma dovrebbero essere problemi a questo punto. Il volo turistico del Brunogine arriverà poco sopra a 100 chilometri, a 103, 104 chilometri. Mentre questo è arrivato a 85 chilometri. 86 chilometri in realtà, 85,9, quindi grossomodo 86 chilometri. Belli che sono! Eccoci, congratulazioni! Virgin Galactic scrive una nuova pagina per la storia turistica dello spazio e in generale dei nostri voli spaziali per il futuro. Quindi un bellissimo giorno con tante... una grande impresa ed è stato un grandissimo piacere tra l'altro seguire insieme a voi. È stato bellissimo poter essere qui per vedere questo volo e di essere in live con voi in generale. mi mancavate un sacco è stato veramente bello poter parlare poter chiacchierare come ai vecchi tempi e sono strafelice di poter essere qui con voi. Loro sono là dentro ora stanno scaricando credo carburante extra e è andata è data la grande grazie a tutti di cuore è stato un piacere enorme poter essere qui di nuovo grazie per tutti gli abbonamenti grazie per le donazioni ci vediamo presto per tutti gli altri lanci vi ricordo che tra l'altro il 20 vedremo Blue Origin che partirà con la sua di la sua d'impresa e con la New Shepard per il resto ci sentiamo come sempre seguitemi su Twitter e su Instagram per tutte le novità e poi su i gruppi di Telegram per tutti quanti gli aggiornamenti e anche per quanto riguarda la Starship presto farò una live dedicata alla Starship con tutti gli aggiornamenti anche lì stanno succedendo un sacco di cose belle ci vediamo presto per tutto il resto un abbraccio fortissimo continuate ad essere persone meravigliose e vi voglio tanto bene ci ci riabbracciamo e ci risentiamo molto presto ciao a tutti ciao a tutti in una Spaceship con molti altri grandi adulti looking down to our beautiful earth to the next generation of dreamers if we can do this just imagine what you can do yay come on out mister ?! ha no 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 n no 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 night tell Grazie.